Partite! E' bello come giochi con quella bambina. Fai bene a farla felice. Ne ha bisogno. Ne abbiamo proprio bisogno. Padre... E' vero che morirà? Così dicono. Ma non è giusto. E' così piccolo. Hai un cuore grande, ragazzo mio. Ragazzo, tu ora verrai con me. Preparati alla svelta. Cosa dite, mio signore? Ho una missione da compiere. E tuo figlio mi accompagnerà. Gli altri si preparino per la partenza di domani. La prego, mio signore. Mio figlio, no. Ho già perso il mio primo aggedito. Non me lo porti via. Tutti abbiamo perso qualcuno. Vi prego, qualsiasi cosa debba fare, porti via. Tuo figlio corre velocemente e sa difendersi. Se fossimo attaccati avrebbe molte più speranze di te di sopravvivere. E poi conosce la Conitum. Certo che conosco quella pianta. L'ho raccolta tante volte per il frate. E' rara, sì, ma non è impossibile da trovare. Bene. Ti aspetto alla porta il prima possibile. No, ti prego. E' un ordine. Figlio. Padre, con quelle foglie possiamo preparare la cura. Posso aiutarlo? Ragazzo mio, se vedi quel mostro, corri. Corri. Scappa. Non va a dare a niente. A nulla. Scappa. Sì, padre. Ti prego.